Buongiorno a tutti, iniziamo quasi puntuali in questo secondo palco, che abbiamo cominciato ieri, devo stare più vicino, iniziamo con il gruppo The Paddling Brothers, faccio notare che i ragazzi sono andati qua alle 9 per provare il palco, sono molto più professionisti e professionali di noi, quindi grazie di tutto, mi scuso per l'organizzazione, per il palco e per lo spazio, spero che i professori diano la carica giusta per tutto questo. Loro hanno ucciso recentemente questo album, che secondo noi, del Buscadero, è uno degli altri molto interessanti, quindi siamo potenti adesso di averli qui da vivo e non sono pronti per farci suggerire i loro brani. Io ce ne ho uno per scelto in particolare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.